In questo video vedremo come si sviluppa il gioco in presenza di arrocchi contrapposti. A differenza delle posizioni con arrocchi dallo stesso lato, gli arrocchi contrapposti sono caratterizzati la maggior parte delle volte da strategie di gioco ben definite. Per loro natura questo tipo di posizioni prevedono dei violenti attacchi sul re avversario. Negli arrocchi contrapposti i protagonisti di questi attacchi solitamente sono i pedoni che spingendosi in avanti, a volte sacrificandosi, aprono colonne sul re avversario oppure si creano delle nuove opportunità d'attacco. In queste posizioni è importante non perdere tempi, lo scopo prioritario è quello di dare scacco matto prima dell'avversario, quindi solitamente si prediligono mosse offensive rispetto a quelle difensive. Per esempio a volte conviene continuare con una mossa d'attacco invece di spostare un pezzo sotto attacco sull'altro lato. Una mossa difensiva è lecita solo se rallenta in modo evidente l'attacco dell'avversario. Ogni spinta di pedone della rocca è una debolezza, per chi l'ha è un obiettivo d'attacco per l'avversario. La prima partita che andiamo a vedere è un classico tra Henry Bird e Paul Morphy, giocata nel 1858. Paul Morphy nasce a New Orleans negli Stati Uniti il 22 giugno del 1837 ed è considerato universalmente il primo campione del mondo non ufficiale. Con il suo gioco brillante e aggressivo sbaragliava facilmente i suoi avversari. Il suo avversario Henry Bird invece nasce in Inghilterra il 14 luglio del 1980. Personaggio di grande creatività che addirittura lo portò a creare una variante del gioco degli scacchi inserendo due nuovi pezzi su una scacchiera di 8 caselle per 10. Bird è il bianco, Morphy è il nero. La partita inizia con E4, E5, cavallo F3, D6. La difesa, Ilidor. D4, F5. Siamo nel 1858. Allora la teoria dell'apertura non era sviluppata come adesso. A giorni d'oggi questa mossa viene considerata perdente, ma all'epoca non c'era la conoscenza di adesso e quindi c'era spazio per provare a battere strade nuove. F5, quindi una mossa aggressiva. Cavallo C3 e il nero prosegue con F per E4, cattura al centro. Cavallo per E4, D5. Ecco l'idea comunque di questa apertura del nero con la spinta dei tre pedoni, due centrali e uno sulla colonna F. Il nero con la spinta del pedone F in F5 cerca di far saltare il centro del bianco per poi avere una maggioranza di un 2 contro 1 a suo favore. Quindi presa, cavallo prende e D5. Cavallo G3. Adesso si gioca questa mossa al cavallo per E5 con un vantaggio vincente da parte del bianco. Ma il bianco, questa partita, gioca cavallo G3. Il nero spinge ancora il pedone in E4, attacca il cavallo e il cavallo va al centro in E5. Cavallo F6. Alfiere G5. Vedete che il bianco ha sviluppato i pezzi leggeri del lato di donna, mentre il nero con questa mossa di alfiere sviluppa i pezzi leggeri sul lato di re. Quindi il nero è pronto ad arroccare corto e il bianco tra poco ad arroccare lungo. Il bianco cerca di sfruttare l'inchiodatura che l'alfiere G5 sta portando al cavallo in F6 con cavallo H5 per rovinare la struttura di pedoni del nero. Il nero arrocca corto e il bianco donna di 2 per arroccare lungo. Il nero toglie il cavallo dall'inchiodatura, quindi toglie la donna per schiodare il cavallo. Dopo donna E8, G4 del bianco che difende il cavallo in H5 sotto attacco. Una mossa quantomeno di dubbio valore, cavallo per G4 del nero, cavallo per G4, donna per H5, cavallo per E5, sono stati cambiati una coppia di cavalli. Cavallo C6, alfiere 2 bianco sviluppa l'ultimo pezzi leggero attaccando la donna, donna H3, adesso effettua un cambio in C6, B per C6 e torna indietro con l'alfiere N3. Ok, questa posizione è una posizione strana, una posizione degli squilibri nella struttura di pedoni soprattutto. Ci sono delle colonne aperte? No, ci sono solo delle colonne semi aperte, la G per il bianco e la E, la F per il nero e la B. Adesso come procedere anche qua? Bisogna sempre far giocare i pezzi, attivare i pezzi ogni volta che si può bisogna farlo. La doppiatura normalmente comporta un indebolimento della struttura di pedoni, però quando un pedone si va a doppiare ad un altro, libera una colonna e il pezzo che ne può guadagnare di più in attività, chiaramente la torre, quindi ogni volta che abbiamo una doppiatura, l'impedonatura dei pedoni, sicuramente stiamo guadagnando delle colonne aperte. Quindi il gioco a torre B8 e fa pressione sul punto B2 e il bianco arrocca, come da programma. Quindi abbiamo, vedete, una posizione con arrocchi contrapposti. Questa posizione è bellissima, bellissima per la creatività del nero, del nero in questa posizione. Il nero trova una mossa veramente fantastica. Allora, il suo piano di gioco è chiaramente quello di attaccare il re bianco sul lato di donna, ma ha un problema. Serve il suo pezzo più forte in attacco, la donna, che è dall'altro lato. Come può attaccare un re senza il suo pezzo più forte, la donna? Quindi è scogita una mossa per portare la donna rapidamente dall'altro lato. E sembra impossibile che la donna possa andare sull'altro lato. Ma il bianco, il nero, trova questo bellissimo sacrificio. Torre per F2, mossa incredibile. Sacrifica la torre e dopo alfiere per F2, donna 3. Porta la donna sulla casa 3 in presa. Ma il bianco non può prendere perché dopo B per A3, alfiere per A3, porterebbe al matto. Quindi donna 3 sta attaccando B2. Guardate che è riuscito nella missione impossibile di portare la donna sull'altro lato tramite un sacrificio di torre. Anche qui, ripeto, quando stiamo per attaccare il re, quando vogliamo attaccare il re, le mosse che dobbiamo cercare sono proprio di questo tipo. Quelle mosse sono quei sacrifici strani. Portare i nostri pezzi in casa che altrimenti non penseremo proprio mai di portare. Quindi un torre per F2 è una mossa che difficilmente ci può venire in mente per un attacco al re. Quindi torre per F2, alfiere per F2, legata a questa donna 3, bellissima sequenza del nero. C3, il bianco difende B2 e il nero donna per A2. Semplice, minaccio scacco e poi l'ha presa in B2, dopo re C2. Adesso, quindi, il bianco deve difendere il pedone B, ma l'unico modo è spingerlo in B4 proponendo il cambio delle donne, che chiaramente il nero non ci pensa minimamente a cambiare le donne. Quindi su B4 gioca scacco in A1, il re deve salire in un'unica casa, scacco in A4 e qui due possibili mosse, re B2 e re C1. Re B2 giocata dal bianco è la mossa che perde, la mossa perdente. Re C1 deve stata un po' più tenace, anche se dopo la mossa alfiere F5, bellissima, con l'idea di portare l'alfiere in gioco sulla diagonale dopo la spinta in E3. E se il bianco non permette questa spinta, allora il sacrificio adesso diventa vincente in B4. Guardate come adesso il re bianco viene aggredito da torre donna e non ci sono difese per il bianco. Per esempio su donna C2, donna A3, re D2, torre B2. Il nero va in vantaggio di materiale perché guadagna la donna. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!